Notiziona, gli ACDC tornano dal vivo e alla batteria avranno chi? Matt Laug, lo storico batterista di Vasco. Quindi fuori Phil Rudd, almeno per il Power Trip Festival che si tiene tra pochi giorni in California. La band non ha dato spiegazioni ufficiali, quindi vedremo se Vasco dovrà trovarci un nuovo batterista o se è solo una botta e via. Di sicuro gran colpo per Matt Laug e secondo me lui veramente perfetto per quel sound. Che ne pensi?